Quarta tappa da poco conclusa, siamo con Davide Cassani. Davide, allora prima di tutto che bello vederti in questo nuovo ruolo di battitore libero, come possiamo definirlo? Vivo il Giro d'Italia pedalando nel primo pomeriggio con il Giro E, cercando di andare a vedere, a far vedere tutto quello che c'è nella zona del traguardo, con i personaggi, con curiosità e quant'altro. È sempre un piacere essere al Giro d'Italia. Ti invidiamo un po', perché hai la libertà di andare ovunque, quindi entri e esci ovunque, non hai problemi di essere richiamato come capita ogni tanto a noi che giochiamo un po' sulla linea del fuorigioco. Davide, siamo qui all'Aigolo Sceno, la tappa è appena finita, nuova maglia rosa. Cominciamo da Renko Evenepoel, vincitore straordinario nella prima tappa, nella crono inaugurale di Fossa Cesia, ha messo subito in ordine le cose, in chiaro la situazione. Tu lo aspettavi che potesse vincere con questo distacco sul secondo, su Ganna e su Roglic, addirittura più di 40 secondi? Con questo distacco no, perché è stato superlativo. Rifilare 22 secondi a un fenomeno come Ganna in un cronometro del genere non era semplice. E ha dato 43 secondi a Roglic il suo diretto avversario per la vittoria finale. E' stato veramente superlativo, perché è andato forte, perché non so come faccia uno di 63-64 kg ad andare a 60 km in pianura. Ha una posizione aerodinamica che nessun altro ha. Esattamente, adesso si fa per parlare, ma un giorno il record dell'ora a Renko secondo te lo può fare? A questo punto sì. Visto voglio dire che sembra non conoscere ostacoli. Ha fatto i 58 di media nei primi 10 km. Sì, perché praticamente ha guadagnato, in ogni intertempo guadagnava. Invece primo Zoroglic, il suo vero avversario nella classifica generale, è stato sottotono, non ha mai carburato. Eppure lo vediamo ogni giorno anche al traguardo, anche oggi che è la gola scena, sorridente, disteso. Cosa succede? Succede che bisogna capire se ha avuto dei problemi prima del giro, bisogna capire anche l'allenamento che ha fatto per questo Giro d'Italia. Perché se tu vai a vedere la cronometro, nel tratto in pianura è andato molto piano. Era anche, sembrava ingolfato, legnoso. E in salita è andato più o meno come Venepol. Questo quindi può... E quindi possiamo pensare che si sia allenato specialmente per la salita. Quindi in questo caso, già tra pochi giorni, voglio dire, a Campo Imperatore, si sveleranno un po', si getteranno le maschere, diciamo. Sì, perché oggi non abbiamo visto granché, perché nell'ultima salita poi c'era la fuga, non si sono dati battaglia. Però abbiamo notato una cosa che tra l'altro un po' si poteva anche capire, che la squadra di Venepola, forse, senza forse, è più debole nel complesso rispetto alla Ineos, rispetto anche alla Giuglia. Certo, questa è un'altra ulteriore indicazione che stiamo raccogliendo. L'inio si è visto oggi, insomma, di essere... Ed è per questo che, come era nelle previsioni, Venepola ha mollato la maglia rosa. Infatti questo ti volevo chiedere, Renko ha preso la maglia rosa, diciamo, ovviamente al primo giorno, qualcuno, insomma, si era già iniziato a parlare, ma chissà, magari la tiene dal primo giorno alla fine, come fece Bugno nel 90, quando l'ha presa da Bari e la portò fino a Milano. Renko stesso disse, no, io la voglio lasciare, insomma, per qualche giorno, perché effettivamente avere la rosa è un onore, ma anche un onore, è importante. L'importante per Venepola è vincere il giro, non difendere la maglia rosa. E' sempre così per tutti, chiaro. Allora per l'Ecnexun potrebbe essere importante difendere la maglia rosa, ma non per Venepola. Sai, come abbiamo sempre detto, spendi energie, tu la squadra, arrivi in albergo due ore prima rispetto a tutti gli altri. In un ciclismo come questo, di altissimo livello, le minime energie... I capital gains, i famosi benefici marginali. Soprattutto lo paghi, e soprattutto Venepola è un ragazzo che ha 23 anni, non ha mai fatto tapponi come quelli che troverà in Italia, perché è la vuelta, corsa di tre settimane, ma non ha i tapponi come... Poi col meteo, voglio dire che... Alla fine, va come una moto, però anche lui deve controllare un po' la situazione. E dal momento che in Ammiraglia ci sono dei direttori sportivi bravissimi, a cominciare da Davide Bramati, hanno fatto la scelta giusta. E oggi quindi giornata perfetta, possiamo dire anche oggi, hanno lasciato la maglia a chi non preoccupa, però qui rischia di riprenderla tra qualche giorno, cioè venerdì a Campo Imperatore rischia di riprenderla. Why not? Perché no? Però intanto si fa due giorni un po' più tranquilli, poi vedremo se poi se la rilascia, insomma è un giro così. Invece nella seconda frazione abbiamo esultato, ci siamo goduti Jonathan Milan, questo ragazzo sbocciato già da anni nella pista, ma finalmente anche su strada, l'altro giorno nella seconda tappa, un successo meraviglioso. Sono anni che dico che Jonathan Milan potrebbe essere il nuovo Kittel, perché Kittel ha vinto mondiali a cronometro da junior ed è diventato un grande velocista. Jonathan è fortissimo su pista, non ha vinto dei mondiali a cronometro, ma ha vinto Olimpiadi in seguimento squadra, Olimpiadi e campionati del mondo. E si vedeva che aveva questo spunto veloce tra i dilettanti, tra gli anni 23 ha vinto una bellissima tappa in volata al Giro d'Italia giovane, l'aveva già dimostrato l'anno scorso di essere molto veloce. Ed è stato bravissimo perché comunque ha vinto la sua prima volata al suo primo Giro d'Italia. Quasi per distacco poi tra l'altro. E ha margini di miglioramento. Un ragazzo poi con la testa sulle spalle, ha riscattato anche una prima parte di stagione abbastanza complicata, dopo il Saudi Tour ha avuto un po' di sfortuna, cadute eccetera. Invece forse non era neanche così sicuro di partecipare al Giro negli ultimi 10 giorni, due settimane. Poi invece ha fatto quello che ha fatto e tuttora veste la maglia ciclamino. Lascerà però probabilmente il team Bahrain, voce di mercato, cosa sai? Su questo ne sai più te di me. Inter-Noss, detto Inter-Noss, la Trexiga Fredo può essere una buona squadra per crescere, per svilupparsi e completarsi? Sì perché alla fine è una squadra, sai il problema di un velocista qual è? È approdare in una squadra dove hanno ambizioni di classifica nelle grandi corte tappe. Quindi per un velocista trovare spazio non è semplice. Anche perché per un corridore come Milan comunque serve una squadra dove abbia la possibilità di fare le volate, ma soprattutto uomini che possono condurlo. E quindi penso che la Trexiga Fredo potrebbe essere certamente una buona squadra. Una buona squadra. Tra l'altro invece dalla Trexiga Fredo, sempre voce di mercato, si parla di un passaggio dalla Trexiga Fredo al team Bahrain e Victorious di Tiberi. E il Tiberi, sappiamo tutte le difficoltà che sono successe, conseguenti all'incidente, lo sappiamo, al discorso del gatto eccetera. Un consiglio a Tiberi e anche in sintesi un tuo commento di tutta questa vicenda, se sei esagerato forse un po' troppo. Sì, io direi di voltare pagina. Ha fatto una cavolata, però basta. Ma la squadra secondo te non ha esagerato anche a fermarlo, a sospendere? Cosa ti devo dire? Io l'avrei tenuto una bella lavata di capo, una multa, perché comunque ha fatto una cosa sbagliata. Però non è che possiamo dargli il gastolo per questo. Io sono assolutamente convinto che Tiberi possa un giorno diventare un corridore della Corsa Tappe. Uno dei pochi italiani. Certo, mi ricordo che tu l'hai sempre seguito anche da diversi anni. E mi auguro che possa trovare quella serenità, quella tranquillità, che possa promettere lui di dimenticare questa giornata brutta. Voltare pagina. Esatto, voltare pagina e pensare poi a... Il suo nuovo capitolo della carriera sembrerebbe almeno sempre, quanto abbiamo anche raccolto, che possa passare appunto alla Bahrain Victorious già a giugno addirittura e debuttare al Giro di Svizzera. Tu, se fossi il suo DS, gli faresti fare subito il Tour de France, lo rigetteresti nella mischia, lo faresti correre... La Vuelta. La Vuelta, quindi non il Tour, un rientro graduale e poi Vuelta. Sì, penso che sia la strada migliore. Ultimissima domanda, tornando al Giro d'Italia. Quindi allora ci aspettiamo una vera sfida a questo punto a Campo Imperatore. Il duello annunciato Renko-Roglic, insomma, è quello che ci aspettiamo tutti. Per quanto riguarda invece i nostri corridori, Damiano Caruso ha pagato, non è un cronome nel primo giorno. Per le vittorie di tappa abbiamo fortunato. Pozzo Vivo è ancora lì che sgomita e dice voglio comunque puntare alla top ten. Cosa dici? Sì, speriamo di vincere qualche tappa. Albanese ha fatto bene oggi, ha fatto bene ieri e può fare bene anche nei prossimi giorni. E Milan speriamo che possa vincere un'altra tappa. Sì, Damiano oggi l'ho visto bene, è bello pimpante. Arrivare nei primi cinque potrebbe essere un suo obiettivo ed è raggiungibile. Anche se abbiamo parlato di Vene Poli-Roglic, ci sono tutti quelli della Ineos. Tra l'altro oggi ho visto Niren Thomas e mi ha detto sì, adesso sto bene, per il momento sto bene. Quindi anche Thomas è un altro che uscirà alla distanza. Sono quei cagnacci, nel senso buono della parola, che non mollano mai. Benissimo Davide, allora ti lasciamo, poi avremo modo e piacere anche ancora di rincontrarti. Qui dalla Colazione è tutto, al prossimo servizio. Ciao ragazzi.